Vieni a drissarlo a bonti! Vai, vedi più alto! Vieni a drissarlo subito! Vieni a drissarlo subito! Tiralo dietro la mano! Tirala, tirala, tirala! Ok, vai adesso! Vai, vai! E' bellissimo! Vieni Angelo! Angelo di là! E' Angelo, non fare cose complicate! Vieni! Vieni! Vieni, magari arriva con il vento! Si sente fino alla casa! Ma va! Stai dietro, Angelo con quel petrolio! Angelo! Non usa il peso! No, non ha più niente la porcella! Sto cambiando! Vai! Vieni, ti chiedo i tuoi danni! Vai, vai! Vieni! 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 Sai perché? Uno, due, tre! Uno, due, tre! Ero spilacciato! Uno, fa niente! Tira la fine in fondo! Ogni volta che chiudi, lei stacca e ti riattacca! Oggi ha anzitato! Oggi ha impestato! Oggi ha impestato! Oggi ha impestato eh! Con le zone! Come? almeno ho colato terza ma parti troppo molle ma anche lui viene su di qua si si lui lo provate in seguito e arriva su e lui le fa proprio bene e ma va e lui appena salta quello lì poi gli apri tutta ma devi farla così sbilanciata dritto apri poi lui c'ha la moto che grida come lui quindi stessa tale e quale vai vai andiamo a dirgli al al paolino di preparare il banchetto ascolta il suo gatto l'accelerario basta perchè se la chiedi tutta ferma la trazione poi la riapri e ti scivola il pezzetto c'è un pezzetto e ti perde e non arrivi c'è un pezzetto e ti perde e non arrivi c'è un pezzetto e un pezzetto bravo perchè ti abbiamo fermato perchè ti abbiamo fermato perchè ti abbiamo fermato vai lele mi uccidevi i pennelli pennelli sei andato con i bambini e si eh ma provi da lì io cagli li trovo tutti no ma è bello fare il sasso però gli ho messo il sasso e l'ho mandato in merda c'è l'albenelli c'è l'albenelli dov'è l'albenelli? guarda l'albenelli con i bambini dai bravo bravo però a fino qua a piccoli va bene poi uno vuole pure ecco ormai con il posto si è andato lele 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 dai su ma guarda com'è se non guardi non imparerai mai a fare dimmi la comando pure indietro io cane ma che io la forsella non le poteva più qua sono qua male senti ribattamento sono in un brutto posto via 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 no no vai in acqua alla filina sta Oh, fino su sti cazzo inquinini che mi mettono tutto il controllo!